mister partiamo subito dalle notizie dell'infermeria su quali giocatori non potrà contare per il match con lo spezia oggi dobbiamo fare l'ultimo allenamento ci abbiamo qualche fastidio però penso che al di là di delia anche 40 penso che oggi si allena quindi al di là dei soliti che sono fuori il resto dovrebbe essere a disposizione De Magni come sta? De Magni ieri ha avuto un piccolo risentimento ma è da valutare oggi ma spero che non sia niente di grave invece per Baldini e Gans bisognerà aspettare ancora qualche settimana? sì loro sono ancora alle prese con dei fastidi piccoli piccoli problemi però non sono disponibili per quanto riguarda il terzino sinistro non ci sarà delia su quella fascia cupis de santis lo stesso 40? sì abbiamo provato diverse soluzioni abbiamo lavorato anche un attimino ad abbassare magari eventualmente delle mezze ali e non abbiamo un giocatore di ruolo però penso che chi giocherà farà benissimo per quanto riguarda lo spezia una squadra che ha un punto in più in classifica rispetto a noi come si affronta un team che è privo di Galabino però ha tanti elementi di qualità partita complicata come d'altronde tutte in questo campionato qui incontriamo una squadra che secondo me è molto molto attrezzata al di là delle assenze che hanno ma hanno una rosa talmente competitiva che chi ha giocato di meno sono giocatori straordinari che voglio dire non gioca maggiore ma c'è Bartolomei c'è Mora insomma giocatori di tutto di tutto rispetto e quindi per noi sarà una partita diciamo impegnativa ma siamo pronti inizia anche un mese piuttosto pieno di impegni per l'Ascoli ma per tutta la serie B. Ma non è questo mese la serie B è sempre così anzi quest'anno magari con delle squadre in meno abbiamo avuto magari qualche riposo che di solito non non accadeva mai quindi di conseguenza siamo pronti siamo pronti e speriamo di recuperare magari ecco quei ragazzi che hanno questi questi fastidi e quindi di di prepararci al meglio in queste ultime partite di giorno d'andata. Cambia la chiave tattica del match per l'assenza di Galabinov si aspetta uno spezia che punterà molto sulla velocità di Okereke e Bidawi? Sì loro soprattutto fuori casa è una squadra molto attenta a livello tattico concedono pochissimo spazio nella nostra nella loro metà campo e chiaramente secondo me la mancanza di Galabinov gli dà ancora di più la possibilità di mettere giocatori veloci e rapidi per per giocare di ripartenza quindi noi sotto questo aspetto qui dobbiamo essere concentratissimi. A netto delle condizioni di Ardemagni può esserci una chance anche per Rossetti che è stato decisivo allo storico di Pescara? Ma qui sono tutti tutti decisivi e tutti fondamentali perché noi abbiamo una rosa in questo momento qua abbastanza diciamo ristretta per come eravamo partiti adesso andiamo a vedere molto probabilmente oggi convocherò anche un ragazzo della primavera quindi sono tutti giocatori indispensabili che dobbiamo tenere tutti pronti ad eventuale utilizzo e quindi Rossetti deve essere pronto Beretta deve essere pronto insomma tutti tutti gli elementi della rosa devono stare in condizione di poter dare il massimo di quello che possono dare. Grazie mister